O Santo nostro Patrono! Glorioso San Matteo! Il Signore Gesù ti volle tra i Suoi Apostoli per premiarti di aver abbandonato le tue ricchezze per seguire Lui nella Sua missione divina. Con la tua intercessione ottieni a noi dal Signore la grazia che cerchiamo e di non legarci ai beni di quaggiù. Per arricchire il nostro cuore della grazia divina e per essere d'esempio al nostro prossimo nella ricerca dei beni eterni. Padre nostro che sei nei Cieli! Si è santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! Glorioso San Matteo! Col tuo Vangelo ti presenti quale modello dell'ascoltare e seguire gli insegnamenti di Gesù per trasmetterli al mondo quale fonte di vita divina! La tua benevola assistenza ci ottenga la grazia che cerchiamo e di seguire con impegno quanto! In nome di Gesù, ci insegni nel Vangelo per essere! Così, cristiani non solo di nome! Ma capaci di un apostolato unito al buon esempio per portare a Gesù il cuore dei nostri fratelli! Padre nostro che sei nei cieli! Si è santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! La Chiesa ti onora! Glorioso San Matteo! Quale apostolo! Evangelista e martire! È la triplice corona! Che in cielo ti distingue tra i santi e che aumenta la nostra gioia per averti nostro sicuro e fidato patrono! La tua intercessione ci ottenga la grazia che cerchiamo ed essere degni della divina predilezione per la nostra città! Aiutaci ad essere apostoli tra i nostri fratelli per guidarli verso una vita veramente cristiana! Sia con l'esempio sia con l'obbedienza agli insegnamenti del Vangelo e con l'accettazione di ogni sofferenza! Affinché tutti insieme partecipiamo, seppure in qualche misura, alla redenzione operata da Cristo! Padre nostro che sei nei cieli! Sia santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen! O Dio! Che nel disegno della tua misericordia! Hai scelto Matteo il Pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo e nostro Patrono! Concedi anche a noi! Per il suo esempio e la sua intercessione di corrispondere a vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita! Per Cristo nostro Signore! Amen!